Ciao Bari, buon martedì 20 gennaio a tutti, ben ritrovati su radiobari.calt Io sono Barbara Cirillo in compagnia questa mattina e sono molto felice di esserlo insieme a Michele e Jamil Marcella Buongiorno, buona giornata, tanta luce a tutti Oh che bello, innanzitutto è bello vedere un artista così squillante, con la voce squillante di prima mattina Bello attivo, perché di solito insomma, io lo so che voi girate un po' i vari locali Poi tu sei reduce anche da Dottor Ney che ti ha portato in tutta Europa, quindi immagino la tua stanchezza Però è bello trovarti così sorridente È merito della meditazione, quindi bisogna ogni mattina meditare, fare entrare luce per poi trasmetterla Oh che bello, che bel messaggio che hai dato Michele stamattina Anche perché il motivo per sorridere in realtà c'è, ce ne sono tanti, però uno in particolare che si chiama La Via del Possibile Il suo nuovo album, un'ultima uscita, non di certo il primo, anche perché sei un musicista di vecchia data, lo possiamo dire Sì sì sì, diciamo che è il primo da solista Quindi in queste tracce potete ascoltare il mio trombone affiancato dalla mia tuba tibetana, Radong Che in questi giorni, cara Barbara, cioè insomma da ieri, dopo questa tournée è in restyle Ah ecco, vedi Quindi sono abbastanza teso Che poi è un suono bellissimo Eh certo, cioè assolutamente Io ne ho dodici di queste tube tibetane Ora, la tuba tibetana, per chi non la conoscesse, è uno strumento abbastanza lungo, cioè nel senso è gigante È gigante, sì sì Per cui insomma Quindi dove ce li hai dodici? Eh no, io ho un piccolo studio dove insomma raccolgo tutta questa roba Però ecco, se in restyle sto un po' preoccupato Però potete ascoltare questi suoni fantastici nella traccia numero due Che si chiama Heart Tibet della Via del Possibile Michele, che cosa ti ha ispirato l'idea e soprattutto le musiche di questo album? Allora, sicuramente l'ispirazione massima arriva dal mio percorso spirituale Perché ecco, questo è un lavoro che va all'essenza, quindi all'essenziale Eliminando tutti i fronzoli in un periodo ovviamente di stress che stiamo vivendo tutti quanti Questa è una piccola coperta da mettere nei momenti di gelo, da coprirsi nei momenti di gelo È un lavoro molto ispirato, soprattutto alla spiritualità E io lo definisco quella condizione di distasi tra l'ispirazione e l'espirazione Lì, in quel momento c'è questo suono, la Via del Possibile Le musiche poi sono state ispirate da un lavoro teatrale Che io ho fatto con Vito Lopriore, due anni fa Questo lavoro dei Vangeli Apocrifi Noi diciamo che ha generato bellezza Perché ha generato questo disco, che poi sono anche contenuti le colonne sonore Del film che è stato realizzato, che a giorni presenteremo La prima sarà al Seven di Gioia del Colle Quindi c'è tutto un progetto molto più grande alle stalle Certo, certo, certo Quindi c'è il disco, c'è il film e poi c'è questa pieza teaterale Che noi abbiamo portato per 30 repliche anche quest'anno E quindi, insomma Continuerete a portarle in giro? Sì, voglio dire adesso meno Stiamo decidendo altre dati Anche perché c'è da promuovere l'album Adesso perché c'è da promuovere l'album Quindi c'è da pensare a questo figlio Che è il film, quindi insomma ci siamo Ci siete Quanto tempo ci hai impiegato per realizzare insomma tutto questo? Allora, questo disco è un duro lavoro di quattro anni Il primo brano è stato proprio Heart Tibet Che è una puja, cioè un'offerta a Dio Quindi quello è stato il primo brano, Heart Tibet Poi ne sono seguiti altri Ed è un percorso un po' di tutta la mia vita Io nasco come trombonista reggae Quindi c'è prima un omaggio al reggae Con il ritorno al passato Appunto, il ritorno al passato E poi c'è sempre questa evoluzione nelle varie tappe Quindi poi c'è l'India C'è la Turchia e poi c'è l'Africa Quindi sono tutti questi paesi che io ho avuto la fortuna Di visitare, di suonare, di vivere Per cui ecco, a ogni paese ho dedicato un brano E quindi è un viaggio Con una mezz'ora di meditazione, di suono E di giro nel mondo, diciamo E' un viaggio all'interno della tua vita, del tuo percorso Perché prima hai citato il reggae Ci sono dei brani reggae Non so se ce ne sia uno o più di uno Segno del fatto che, insomma, non dimentichi da dove sei in senato Assolutamente Noi nasciamo, dicevo ieri in un post su Facebook Anzi, insomma, vi invito a seguirmi sulla mia pagina E' molto attivo, devo dire, sui social, Michele Io penso che il talento è un dono di Dio Affinché diventi talento bisogna donarlo agli altri Cioè, noi non siamo se gli altri non ci, voglio dire, non ci seguono Quindi è importante per me dire quello che faccio Ma condividerlo soprattutto Condividerlo e quindi Perché quello che fai, perché dirlo, insomma, non ci vuole nulla Però condividerlo è tutta un'altra cosa Anche perché io non sono per il distacco fra l'artista e il pubblico Io sono per la condivisione Quindi, insomma Ma poi tu sei un trascinatore, insomma, sul palco Io ho avuto il piacere di vederti, di ascoltarti Insieme poi all'Improbable Band Con cui ti accompagni spesso e volentieri Aggiungerei Però quindi tu sei veramente un trascinatore Cerchi di incitare il pubblico e il pubblico ti segue ben volentieri Mi piace condividere, donare così un sorriso, un po' di gioia Perché la musica, come diceva Francis Bebe Ho avuto la fortuna di suonare Che mi ha dedicato un brano E che io ho arrangiato per l'Improbable Band La musica è gioia, ma lei ha nella lingua Bombarì Quindi bisogna donare gioia La musica è gioia E poi è quel momento, ecco, dispensieratezza Uno viene a sentire un concerto Si vuole liberare, rilassare Oppure riflettere Quindi ecco, la musica come demiurgo Di una situazione importante E ci hai regalato un gran bel sorriso questa mattina Michele Te lo devo dire Grazie anzi per averci fatto iniziare questo martedì Così Vi invito a seguirlo davvero sulle sue pagine Facebook Dove trovate anche tutte le date dei suoi concerti Delle presentazioni Insomma, io starò attenta anche a sapere Quando magari presenterete il film anche a Bari Nel frattempo, mi raccomando Tenete in mente questo È la via del possibile di Michele e Jamil Marzella Nel frattempo noi ci sentiamo Un brano proprio estratto dal tuo ultimo lavoro Che è Fragili illusioni Dedicato al mio amico Carlo Grazie ancora Michele Grazie mille per essere stato qui con noi Noi ci risentiamo tra pochissimo Grazie mille per essere stato qui con noi Grazie mille per essere stato qui con noi Grazie mille per essere stato qui con noi